Gisella Botticchio, consigliera comunale agropolese, entra nella Lega. Domenica scorsa ad Agropoli l'ufficialità ha la presenza del coordinatore provinciale Mariano Falcone e del coordinatore per il Cilento Nanni Marsicano. Nell'occasione è stato nominato anche il coordinatore cittadino Ignazio Ardizio. Più che il partito mi cattura sempre la persona, io dico sempre dal sindaco pescatore a Matteo Salvini. Anche il sindaco pescatore, che sono stata sua consigliera per un bel po' quando lui era presidente della comunità mondiale, era una persona che dimostrava molta decisione, molto carattere, molta determinazione e molto interesse per il territorio. Matteo Salvini, leader della Rega, ministro degli interni attuali, dimostra la stessa molto interesse nazionale. Io non vedo più la Lega, io vedo il partito di Matteo Salvini che governa tutta la nazione. Non è un partito nazionale, non è un partito del nord. L'ho scelto proprio per quella persona che prende di petto le situazioni e che sono un poco io così, perché cerco la soluzione del problema, non stare lì sempre a rimuginare e a pensare. E quindi mi ha catturato la persona. Nel 2017 candidata con la lista Coppola, perché poi? Che cosa non è andata con il sindaco? Allora, la seconda volta che io mi candidavo con Adamo Coppola in Forza Italia, il 2002, 2017, dopo 15 anni, quindi questo dimostra la fedeltà alle persone. Non sono stata ricambiata della stessa cosa. Quando si è fatta la composizione della giunta, non è scattato il seggio come assessore a Monica Pizza, come non è scattato al dottore Cianciola. Anche lui le dimissioni nascono anche un po' da questa, diciamo, un po' di ingiustizia c'è stata. Cioè la lista Coppola è stata proprio penalizzata. Quindi la mia fedeltà ad Adamo Coppola negli anni e nel tempo non è stata poi ripagata nel 2017, perché siamo stati messi fuori, perché dovevano garantirsi in consiglio comunale persone, secondo loro, sicure, ma non si fa così. Perché se Gisella sposa una questione, vuole anche la meritocrazia e la giustizia. Quindi se sono stata fedele per 15 anni, perché dovevo essere... cioè negli anni e nel tempo. Io su un carattere un poco più combattiva, cercherò di andare avanti per il bene della città. Ma anche loro vogliono bene, perché il dottore di tanto in tanto ci sentiamo, anche con Monica Pizza. Loro magari aspettano orizzonti migliori, insomma, loro guardano al futuro. Io al momento resto a fianco di Nino Abate, di Caccamo, che mi hanno accolto. E poi la Lega, come partito importante, è per dare benefici alla mia città, non a me. Non Gisella sposa la politica, non per interessi personali, ma per interessi della città.